Buongiorno, questo è il tuo precedente controllo, la LDRC, la King Kong KK12 con 12A ESC, ho un problema con l'ESC, il moto numero 1, non ruolo, ok, ok, cerchiamolo, puoi vedere, sorry, puoi vedere tutti i soldi dei motori, sono ok, andiamo per la flight, solo il moto 1, non ruolo, penso che l'ESC, ho cambiato le moto, ma non ruolo, grazie.